La difesa è il reparto sotto osservazione in Casavellino, i tanti gol presi soprattutto tra le murami che stanno spingendo la dirigenza a cercare rinforzi nel pacchetto arretrato. A quanto pare ci sarà anche nelle prossime ore, subito dopo il match contro il Monopoli, un nuovo summit tra il tecnico Piero Braia e il terretore sportivo Salvatore Di Somma. Sul taccuino del dirigente di Castellammare è scritto il nome di Julian Inglianes, l'argentino non sta trovando spazio al Chieva e con l'agenda Andrea Pasini, in caso di ritorno in terza serie, gradirebbe un approdo all'Avellino. La trattativa potrebbe sbloccarsi nei primi giorni di gennaio, ma non è l'unico elemento attenzionato, considerando che Braia è pronto a giocare su due tavoli, quello del 3-5-2 e quello del 4-4-2. Piace anche l'under della Cavese, classe 1998, Emanuele Mattino, che il suo dalizio metelliano, acquistato in estate dal Parma, ex potenza e nocerina, ha collezionato 50 presenze e 3 gol nei professionisti. Il calciatore ha un contratto con il giallo-blu fino al 2022. Restano costanti per la linea mediana i contatti con l'entourage di Mirko Bruccini, centrocampista in forza al Cosenza. Il calciatore è un vecchio pallino del tecnico toscano, che già in estate lo aveva cercato con una certa insistenza. Di somma, aveva proposto a lui e al suo agente Roberto Coti un contratto triennale. A quanto pare, Lavellino è pronta a cercare l'affondo anche per Cosimo Chiricò, esterno Rallascoli e con un passato al Monza, con cui lo scorso anno ha ottenuto anche la promozione in cadetteria. Nel suo curriculum anche Lecce, Cesena e Foggia, giocatore di qualità che vanta diverse esperienze tra Serie B e Serie C. Un calciatore che rappresenterebbe un vero e proprio colpo per la categoria. Chiaro che dopo l'ultimo match di dicembre contro la Bibonese verranno fatte anche le valutazioni relative alle uscite.